Dopo le proteste dei residenti con tanto di raccolta firme rivolta alla rimozione, l'antenna di telefonia alta 25 metri collocate in via Beccaria nella zona muraglia Monte Granaro è arrivata ieri in consiglio comunale. L'assessora Maria Rosa Conti, che già aveva intimato la rimozione dell'impianto inopportuno per vicinanza a case d'asilo, ha ribadito che l'antenna è di carattere temporaneo e che va dismessa entro 120 giorni dall'attivazione. Attivazione che ancora non è stata effettuata visto lo stallo creatosi. L'antenna è lì perché, come spiegato dalla Conti, è figlia di una norma che permette al gestore di installare l'impianto senza autorizzazioni al di là delle verifiche positive di ARPAM. Conti, che però ha deciso di aprire la strada a una modifica regolamentare per stilare un piano di siti idonei con indirizzo politico condiviso. Diciamo ascoltando il comitato di quartiere che si era formato per questo luogo, di via Beccaria, e sulla scorta di questa condivisione, di queste proposte, anche fatte insieme all'ufficio tecnico, insieme ad ARPA, si è deciso di inserire in questa delibera di giunta un indirizzo politico che vada a modificare sostanzialmente, nel senso da un punto di vista contenutistico sostanziale. Il regolamento che noi oggi abbiamo in essere per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radio televisivi è anche il piano di siti idonei della telefonia mobile che noi sappiamo tutti essere stato approvato nel 2019 con delibera di giunta. Per quanto riguarda questo tipo di percorso è un percorso che sarà condiviso, anche obbligatoriamente condiviso perché si tratta di andare a modificare un regolamento comunale che poi dovrà passare in consiglio comunale e anche fare un imponente lavoro che sarà svolto dall'ufficio ambiente insieme a un consulente che si è occupato di oltre mille piani di rete per quanto riguarda vari comuni dal 2001 in tutta Italia. Da questo punto di vista quindi ci sarà la massima condivisione anche con la comunità, anche con i quartieri, con i vari comitati sia per quanto riguarda via Beccaria che ricordo però essere una antenna temporanea. Non hanno ancora attivato anche l'antenna perché come ho detto è stata emessa questa delibera che ha dato già un indirizzo politico molto preciso che andrà ad impattare su varie situazioni anche per quanto riguarda queste situazioni temporanee e poi nel prosiego da qui ai prossimi 3-4 mesi ci sarà un percorso che comunque rivedrà anche le situazioni di queste proposte che sono solo come detto di carattere temporaneo. Andre Olli che ha presentato l'interrogazione ha apprezzato la volontà di cambiamento regolamentare ma ha invitato a scrollare ambiguità dal caso di via Beccaria. Ha ragione quando dice che ai sensi dell'articolo 47 si agisce sostanzialmente è una delibera tecnica che non ha un avvincolo di mediazione politica ma nel momento in cui arrivano delle richieste così sul quale a fronte anche delle leggi che esistono il comune ha soprattutto con le forme regolamentatorie attuali in capo al comune di Pesaro non ha particolari poteri ma si possono avvisare i quartieri, i residenti e i consigli di quartiere altrimenti che cosa ci stanno a fare se non quello di proprio portare queste istanze e non farle scoprire ai cittadini la mattina quando si svegliano che hanno installato questo impianto davanti a casa sul quale legittimamente poi dopo è giusto che la politica sia al massimo trasparente e lucida nel fare queste analisi senza lasciarsi andare ad invettive che poi non condivido neanche rispetto a questo cioè o una cosa si può fare o una cosa non si può fare non si possono stare da tutti i due lati. Io francamente sono contento che si rivedrà questo regolamento magari evitiamo anche quegli scempi ambientali come c'è stato a Firenzola magari però oltre che a questo io voglio capire che cosa si intende fare con quella con quell'antenna specifica perché se si può fare ci si assume la responsabilità di dire sì si può fare se invece non si può fare si deve dire alla proprietà che ha fatto la richiedente che la deve rimuovere più attenzione ma